Hello ragazzi, ciao a tutti le Nick e bentornati qua su Minecraft Ragazzi ci sono un bel po' di cose da farvi vedere Guardate un po' là in fondo Adesso vedete meglio, vedete là in fondo ragazzi Ragazzi, Nick sta già costruendo il secondo modulo produttivo di ferro Ci sono un bel po' di cose che vi devo far vedere Come avete visto alla fine dello scorso gameplay vi ho messo gli screenshot E guardate un po' ragazzi, fino ad ora questa farm ha prodotto oltre 60 pezzi di ferro Perché alcuni, ammetto, mi sono serviti e li ho già presi Quindi non è male, non lo so, in circa un'ora e mezza più o meno Poi ragazzi ho cambiato un po' qui le cose, vedete che ho messo una scalinata per salire Poi vi spiego anche perché ho messo questi blocchi di terra qui sopra Ovviamente, beh, chi ci vuole a dirvelo, serve per capire la distanza giusta in cui doveva trovarsi L'altro modulo produttivo, no? Poi ragazzi ho seguito ovviamente il vostro consiglio Qui sopra ragazzi ho messo il vetro Da qui posso appunto entrare e uscire Ho fatto la stessa cosa anche con gli altri moduli abitativi E ho calcolato ragazzi che il centro delle due farm E' qui dove vedete questi blocchi qua Questo è il centro tra le due farm perché Uh, guardate! Il golem sta bruciando, lo vedete? Guardate sta bruciando, sta bruciando Eh, ok Vabbè, l'avete visto, no? Era 60 pezzi di ferro Adesso Uh, 5 blocchi di... 5 lingotti di ferro mi ha dato Buono, 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 buono Quindi ragazzi appunto Quello è il centro Ora io ho in mente una bellissima idea ragazzi Pensavo nel deserto non ho una casa Al momento ho una piccola casotta che è quello che è Allora io devo mettere la camera della morte qui al centro Così che i golem che nascono lì e i golem che nascono là Vanno a morire qui al centro Stavo pensando ma perché non costruire tutto attorno alla camera diciamo della morte Una casa Cioè potrei costruire la mia casa qui Esattamente qui Con l'aria produttiva di ferro che va a finire qua E' ottimo, no? Quindi avrei tutto a disposizione qua Questa è la mia idea Ovviamente non so se riesco a costruire casa Penso oggi no Però voglio fare almeno la camera della morte qui La vorrei mettere appunto qua Così da unire anche l'altra L'altra farm Poi c'è un'altra cosa che ho fatto ragazzi Vedete che c'è una torcia qua? Praticamente ragazzi ho cambiato il punto di rinascita Cioè se io muoio O se qualcuno entra in partita Appare qui in quest'area Il fatto è questo che Minecraft Tu una certa area attorno al punto di nascita La tiene sempre attiva Questo cosa vuol dire? Significa che se anche io mi allontano di mille blocchi Questa zona qui rimane comunque attiva Quindi la mia farm di ferro funzionerà sempre Quindi insomma Praticamente la produzione di ferro Andrà Andrà alla grande Oh eccolo qua Ripristino Aia Si è rotta l'incudine Ok allora Creiamo anche ragazzi Una Una nuova incudine Adesso non dovrei avere problemi con le incudini Si ripara uccidendo Ma se ci met... No aspetta Facciamo un'altra cosa invece Questi due me li lascio Che mi ci posso fare una bella spada E il piccone in diamante Lo ripariamo non appena becco un po' di mostri Si mi sa che è l'idea migliore Comunque vedete appunto Che ho già più o meno costruito Il secondo modulo Di 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 produzione Qui di ferro Ok Ho centrato Di nuovo l'altro buco Vabbè la prossima fase La conoscete Devo mettere l'acqua Ci siamo qua Si mancano solo i moduli abitativi Ovviamente mancano anche i villager Ma perché si merano traditi Ah ok Oh vediamo un po' se Sti cacchio di cose Proprio velenosi sono Oh mi pare che il piccone E chi vuoi Mena Mena Oh si Mi pare che il piccone Un po' per volta Si sta riparando Ehm Poco alla volta Uccidendo mostri Un po' alla volta Si va Riparando Ok ragazzi Allora ho raccolto Un bel po' di sabbia Adesso vediamo di fare Quindi un bel po' di Un bel po' di 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 Come cacchio si chiama Un bel po' di vetro E praticamente ho portato qui Le fornaci Perché la casa La vecchia casetta È troppo lontana Dal punto di spawn E quindi finisce Che non mi fa il vetro Praticamente devo riparare Quest'ascia di ferro Che mi serve Riparata Ok Perfetto Fatto ciò Volevo già Anche creare La spada In diamante Eccola qua Però la conservo Qui Non mi serve Devo poi incantarla Ok ragazzi Raccolgo anche del grano Perché devo Far riprodurre I miei villager Ne abbiamo bisogno Assolutamente Di tanti Quindi Creo quanto più pane Possibile Cerco di farli Riprodurre Ok ragazzi Allora Vediamo di Farli Accoppiare Uncora un po' 1 2 3 4 5 Oh Sono 6 Perfetto Allora 1 2 3 Ok 1 2 3 Ok Facciamo Oh ma c'ho poco pane Vabbè non importa Io lo butto direttamente da qua Avanti Magari si spera che si accoppiano pure questi Perfetto Perfetto raga Allora quasi quasi Mentre che il vetro continua a cucinare Penso che potrei andare a prendere gli ultimi villager rimasti nel loro villaggio naturale Ok raga Inizio il nuovo viaggio si spera Vai 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 il viaggio della fortuna Ricomincia ancora una volta Li porto su Questi sono gli ultimi villager Non ce ne sono altri in quel villaggio Quindi In quel villaggio non ci devo più tornare Allora Non allungo il tracciato Così deraiano Deraiano qua E non torno ne indietro Questa è un'ottima idea Così non torno ne indietro Forza vadi Ce la farà? Ce la farà? O devo spingere io mi sa ancora Vai 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 Oh Ah la torcia Vai Ok Ce la fa? Ce la fa Ok Eccoli qua ragazzi Allora Stava fa buio Ma mi sono dimenticato Che ci devo mettere una torcia Lì dentro Comunque allora Una bella torcia qua Poi Questi Ovviamente Come sempre Nel tetto Eeeh Dunque Ci mettiamo Un po' di vetro Per ora Questo qui andrà più che bene Poi lo coloro pure lui Ok Purtroppo non ho neanche del cibo da dai A parte Questo ma Non so se la bistecca Gli piaccia oppure no Quindi Per ora Wey Non ti ha già da uscire Ah ti ammazzi così Ovviamente al momento Dubito che questa possa produrre Golem Con soli 4 abitanti Ma man mano che si riproducono Dall'altra parte E man mano che poi riesca a riprodurre Anche questi Purtroppo al momento Eeeh Al momento non ho cibo da dai Ma comunque Tanto ci vuole lo stesso Un botto di tempo Prima che riesca ad avere Un po' di villager Anche da questa parte Quindi per ora Ce ne sbattiamo E iniziamo Piuttosto la fase Diciamo Di Unificazione Dobbiamo unire Le due farm Come facciamo Allora Facciamo così Ho scelto di fare Più o meno Tutto in vetro Eeeh Mi pare che il golem Ha bisogno di tre blocchi Per poter Eeeh Scivolare Ok andiamo di quattro blocchi Facciamo così Voglio andare sul sicuro Non vorrei che poi Lo spazio è troppo poco E il golem Non riesce a scivolare Eeeh Quindi è qua che viene il bello Per questo vi dico Ci vuole tanto vetro Perché dobbiamo arrivare Fin là sotto Con il vetro Eeeh E non è una cosa da poco Bisogna dire Ok ragazzi Arrivati Qua Devo iniziare A contare Ok Partendo da qua Devo contare 59 blocchi Ok ragazzi Eeeh Questo è il centro Più o meno Dove avevo Calcolato io Forse ho sbagliato Di un blocco Non è male Non è male Comunque questo Dovebbe essere il centro Eeeh Quindi uno E due Qui è teoricamente Dove il golem Cade Oh perfetto Va proprio a combaciare qua Basterà poi avanzare Il golem Piuttosto che Cadere qui sotto Camminerà Per di qua Ora quindi ragazzi Passiamo alla fase In cui piazzo Il vetro In questo modo Ok Tiro sulla seconda parete Eeeh L'unico problema Praticamente Sono i blocchi Non so se mi bastano Per il resto Non è tanto difficile Ok ragazzi Allora Ho creato tanti cartelli Vabbè Ma nel frattempo Io direi Che dobbiamo Spostare La camera Della morte Ne approfittiamo E facciamo questo Eeeh Quindi Per fare ciò Prima di tutto Ooi Mi ha fatto spaventare Bravo Muori 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 E dammi Tanto bel ferro Quattro pezzi E un paio di fiori Perfetto Allora ragazzi Stavo a dire Difatti Prima di fare Cioè Prima di cominciare A spostare La camera Dobbiamo un attimino Tappare il buco Per evitare Che Qualche Qualche golem Vada in giro E adesso Posso iniziare A spostare La camera Della morte Quindi Mettiamo I quattro Hopper Appiccicati Alle pietre Perfetto Poi A posto delle pietre Ovviamente Qui ci vengono Le chest Per ora Va bene così Eeeh Vediamo Tutto attorno Ci mettiamo Questo che sembra Tipo oro E a me piace Tanto Così Perfetto Potrei fare così E' bellissimo Ragazzi E' proprio bello Però ci devo mettere Per forza di cose Il vetro Eeeh Qui la voglio strutturare Un po' diversa la cosa Deve essere una camera Della morte Molto bella Deve essere molto bella A me piacciono Le cose belle Così Allora Qui Potrei fare Tutto in vetro Volendo Ok Precisi No Ah si no Giusto 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 Questo è da togliere Ok Preciso Ragazzi Ah qui Manca un po' di vetro Vabbè Ora poi lo mettiamo Ok La camera della morte E' più bella di prima Ragazzi Adesso tipo oro Perché difatti Come vi dicevo Siccome viene dentro casa Quasi All'incirca Quindi è bella Avere una camera della morte Più bella No Più Più elegante Noi siamo così Siamo molto eleganti Perfetto Vado a prendere il vetro Ragazzi Che la completo In modo definitivo Questa camera della morte Ok ragazzi Nel frattempo Che aspetto il vetro Ehm Mettiamo anche E uno Là Così posso mettere Adesso anche la lava Lì sopra Ma non lo facciamo Adesso perché Altrimenti Poi non posso Lavorare in santa pace Qui dentro Rischio io Di finirci dentro Allora adesso Come penso Avete immaginato Da qua Il golem Dovrà andare Verso la camera della morte Ovviamente Non ci va di sua Spontanea volontà Quindi dobbiamo Spingerlo Noi verso La camera della morte Per fare ciò Devo creare Un Un livello Di acqua Così Ma prima Devo assolutamente Provare a fare Un po' di acqua infinita Perché se no Come cacchio faccio Non ho acqua infinita Qua Ci vuole adesso Un botto di acqua Raga Quindi provo A creare Un pochetto Di acqua infinita E poi ovviamente La devo togliere Allora Mettiamo Un blocco E un blocco Di acqua Togliamo questo Perfetto Vedete che quindi L'acqua Spingerà Verso Una certa zona Poi qui ovviamente Ora c'è il problema Dall'acqua infinita Che Che devo togliere Che devo togliere Ok vedete che l'acqua Si ferma qui Quindi noi Dobbiamo fare in modo Che L'acqua Continua a Spingere Il golem Come facciamo Mettiamo Un Blocco Qua Un blocco Cioè Cartello qua Cartello là Cartello qua Cartello là E poi E poi Teoricamente Mettendo L'acqua Se io Metto L'acqua Così Se adesso Io torno Indietro Teoricamente L'acqua Dovrebbe Continuare A spingermi Visto che Mi spinge Perfetto E quindi Dobbiamo andare avanti Esattamente così Fino in fondo Ok ragazzi Sono praticamente Quasi arrivato Al Si beh Sono arrivato Al centro Adesso è abbastanza Semplice Per evitare Che l'acqua Cada E Addosso alla lava Basterà mettere Uno qua Uno qua E così Il Cosiddetto Golem Cadrà comunque Nella lava Mentre Mentre l'acqua No Bene Spinge fino a qua E' quello che interessa A me Qua ci mettiamo Gli altri cartelli Ok Diciamo che La prima parte Completa Almeno La farm Che attualmente Funziona Adesso può riprendere A funzionare Basterà che Vado a prendere La lava E la mettiamo Al suo posto Prendiamo La lava Questa mi serve Prendo anche Questi Che mi servono Adesso Qui non servono Più Qui devo smontare Tutto Anzi Datemi un attimo Che smonto Già adesso Tutto Ok ragazzi Da questo punto di vista È tutto pronto Vedete che adesso Semplicemente Il golem Quando cadrà Finirà Trascinato Dall'acqua Mi sono dimenticato Una piccola cosa Devo andare Ovviamente A liberare Il cosiddetto Buco Probabilmente Ci sta già Un golem Quindi dovrò Fare in fretta Altrimenti Lui non muore Quindi Non so se C'è il golem Qua Vediamo Se ci sta Il golem Eccolo Ok Ciao Bello Mamma mia Spero che non lo colpisco Perché se lo colpisco Questo mi mena Vai Fammi passare Vado di fretta Cacchio Ehm Meno male Ragazzi Che non ho messo La lava Se no Ci finivo pure io Dentro Guarda Ok Bene Ah guarda quanto è bello Con il vetro Ragazzi Peccato per questo coso Qui che passa accanto Per ora mi serve Perché nel prossimo Gameplay o beh insomma Appena posso Di lì ci devo far passare Il binario Per trasferire un po' di villici Allora La lava La mettiamo Mettiamo qua Tanto non dovrebbe uscire Ecco che arriva il golem Ragazzi Vediamo se Vabbè di arrivarci Ci è arrivato Quindi vuol dire Che di funziona Sta funzionando Deve cadere E vai Oh cacchio Mi sono dimenticato La cesta La cesta La cesta La cesta La cesta La cesta La cee L'ho messo troppo avanti Ho fatto una cavolata Va bene Va bene Va bene Va bene Ok Ok La devo mettere un po' più In là Ah ok Perfetto Funziona Bene Ok ragazzi Quindi Diciamo che la prima parte È completa Devo mettere l'acqua Da quest'altra parte Come ho fatto da questa E poi anche quest'altra farm Potrà iniziare a funzionare Ma tanto al momento Non funziona Perché Mi mancano villici Quindi spero il tanto Che questo gameplay ragazzi Vi sia piaciuto Come sempre se avete qualche consiglio da darmi Non esitate A consigliare E vi ricordo appunto Come vi dicevo prima Che in descrizione Trovate la mappa Scaricatela Provatela Teoricamente dovreste Spawnare qua Ragazzi Io vi saluto Ci pecchiamo presto E cercherò di portarmi avanti Anche mentre non registro Così Nel prossimo gameplay Mi trovate più o meno Quasi tutto pronto Ok Vi saluto Ciao alla prossima ragazzi